Manteniamo per favore le distanze. Allora, io... Allora, io... Chi è presente, chi è presente, mi ascolti. Chi è detegati di venire almeno, non dico una volta da settimana, una volta ogni sei giorni. C'è gente che viene ogni giorno e non va bene. Ora ho letto una notizia che ci sono collegati, una sigla positiva. Ora, noi che non abbiamo sempre i burattini di luati, ora, cosa senti gli immediati? Dico, devi usare le precauzioni. Guanti e mascherine, burattini, non ce n'è, ok? A noi non ci tutela nessuno. Puoi riuscire a fare mascherina, signori. Io non mi posso tenere il caccavo di rifinire questa camorrea. E se noi non ci prendiamo precauzioni, noi principalmente evitiamo di scendere e fare questa camminata anche noi nel supermercato, noi non arriveremo mai a traguardo. Anzi, mettete a noi a rischio i figliari che si faccia di malattia. senza mattia, senza mattia, dico per dire a mio figlio che io faccio subire su questa casa, ci non mi tratta, ok? Dico, è chiaro di scendere un po'. Perché sia chiaro, perché io già arrivavo, massimo, tre volte al giorno, una volta ogni giorno, allora si immagina ogni 15 giorni. Invece ogni giorno, due volte al giorno. Ora, un esempio. Ficcio un esempio, ok? Io ho scontrini qua, di persone che devono scendere a fare la spesa, e invece ho un pacco di sacchetti, un pacco di soresini, insomma, 6 euro, chissà spesa mi ha chiamato, 7 euro, chissà mi ha chiamato spesa, 4 euro e 40 euro, ma ci siamo cucchioneando, ci siamo scherzando, avete a fare la spesa, no, cucchioneare, a venire qua, per picchiare, lo patirà nel lì, a picchiare, penso che qui non la posso fare, ci mettete i gattoni, ma ci siamo parte hanno, ci siamo parte hanno, potremo sinnecollando, che è un cuinuto, ok? Ma si dobbela, chi ti dice? E dopo coltacchino, si può essere rincia, un anno di escire, ok? Non va bene, non va bene, cerchiamo di non scherzare di cose serie, qua ci sono ragazzi, che rischiano, tutti i buffonati, che fanno una pochia immorrenza, che avendo il voto io hanno, non va bene, oh!